L'amatori Catania Rugby è campione d'inverno, un finale di anno incredibile per la squadra di coach Vittorio che chiude la prima parte di stagione da capolista e si avvia un campionato d'altissimo livello. Decisiva la vittoria a tavolino di Reggio Calabria. La squadra calabrese ha rinunciato a giocare la gara prevista al Paolone e così per l'amatori è scattata la vittoria a tavolino per 20-0 e la conquista di 5 punti in classifica. In contemporanea è giunta anche la sconfitta del Civitavecchia, De Bacl che ha stancito l'avvicendamento in vetta, con l'amatori balzata al primo posto. Siamo orgogliosi di questo risultato, ha commentato mister Ezio Vittorio. I ragazzi stanno crescendo bene e crediamo tutti in questo progetto. Non dobbiamo commettere l'errore di montarci la testa, il campionato è ancora lungo e non abbiamo ancora fatto niente. Il mese di gennaio potrà sicuramente dirci molto di più sulle nostre reali potenzialità. Giocheremo infatti contro Civitavecchia, Afragola, Avezzano e Rugby Roma. Dopo questa serie di partite potremo tirare già alcune somme. Insomma, un amatori che si avvia alla pausa con la consapevolezza delle proprie potenzialità, ma con la massima concentrazione. Al rientro la squadra etnea è attesa a un filotto di gare decisive, che sanciranno le reali ambizioni per il proseguo del campionato.